Il soprano abruzzese Chiara Tarquini è tornata in Bulgaria per un concerto di gala a Varna. L'evento è stato annunciato in una conferenza stampa a Roma alla Camera dei Deputati, in concomitanza della presentazione del progetto L'Opera, la pittura musicale ideato dal Consolato Onorario d'Italia a Varna. E non a caso quest'anno, grazie al centenario della morte del maestro Giacomo Cuccini, abbiamo creato questa medaglia come riconoscimento di personalità appunto che si sono contraddistinte nel mondo della cultura e soprattutto dell'opera. Oggetto di questo incontro è stata infatti l'opera lirica proclamata lo scorso 6 dicembre 2023 Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO. Il Consolato Onorario d'Italia a Varna ha avviato dal 2015 un ampio progetto di scambio culturale tra Italia e Bulgaria mirato all'unione della lirica e delle arti visive grazie alla collaborazione di artisti e musicisti provenienti dai due paesi europei. Soprano dei vari concerti organizzati negli ultimi tre anni in questa iniziativa è Chiara Tarquini, ospite soliste italiane in Bulgaria che si è già esibita nella capitale Sofia anche presso l'Istituto Culturale Bulgaro di Roma. Ovviamente per ogni cantante lirico cantare all'estero è sempre una grande sfida perché si è consapevoli, si è pienamente consapevoli di esportare la lirica italiana ben oltre i confini nazionali quindi ogni volta è una grande responsabilità che ci pone davanti a un pubblico sempre diverso, sempre più esigente. grazie a tutti grazie a tutti